Bene ragazzi noi siamo i GRANAS e siamo tornati con una nuova sfida E questa è una sfida che ormai è veramente vista È una battaglia re Questa è una sfida che comunque avete già visto parecchie volte qui su YouTube Italia Ma ci è stata chiesta in molti Quindi abbiamo deciso di farla Avete visto la chiesta sul cane thread, sul cane dei time to challenge Oppure su che cazzo ne so, l'avete vista un po' da tutti Su qualsiasi canale E quindi abbiamo deciso di farla anche noi Perché ci è stata chiesta Abbiamo chiesto in questo video Questo video che comparirà qui Che pronto poi non metterò mai Però vabbè Questo video è comunque trovato in descrizione Abbiamo chiesto 2500 mi piace e ci siamo arrivati E niente quindi andiamo subito a farla Praticamente come succede cosa ci vedrà Mi venderò io questa volta Sarò io ad indovinare questi 5 piatti E se arriviamo a 3000 mi piace su questo video Ci sarà il secondo episodio con lui Che dovrà indovinare i miei piatti Quindi io sarei pronto a vendarti anche Ok Ok abbiamo trovato qualcosa con cui vendarci Abbiamo trovato le mutande Tranquilli tanto sono sporchi soltanto i due giorni Quindi non è un problema Sì quindi no c'è un problema E io vado a prendere il piatto che vi ho fatto Aspetta facciamo il controllo per vedere se sono vendato veramente Ok Avrei fatto sicuramente qualcosa e non ho visto niente Sì Vedete questo piatto Che cosa sarà mai Fammelo prima odora C'è un Oh Gio sento odore di ketchup C'è un fottio di roba Tranquillo Che sta il ketchup Sì Non guardare Tranquillo Oh però che cazzo mi hai messo Mi sento tornato zero Mi fa sempre odore Vola 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 La bemmaglia Vai Che cos'è? Allora questo è un misto di salsa Allora questa è la salsa E poi non so se questa è se è agrodolce Sì sicuramente è agrodolce No Soltanto quello che hai detto Quei due solo Sì quindi va È bravo ragazzo Wow Gli ingredienti del primo miscurio Quello che ha assaggiato lui E che ha azzeccato Non so come Però vabbè Sono questo Ketchup Heinz 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 Possiamo andare con il secondo Allora fai recuperare Ma che è un'altra volta il chiave c'è più usato Ma fai verrà bene Metti il po' sotto al naso Ce l'hai sotto al naso Fermati Ma Vabbè magna Caga il cazzo Vai Chiè Chiè Hai preso? Su Dio che schifo Mi è un po' manca a magna Che cos'è? Ma che è? Dai Allora c'è qualcosa tipo di mozzarella Ste cose qua Che cazzo è? Galbanino Che è? Porca troia Che è maionese? Sì Eh? E' tipo burrata Quei cosi là No No ma rendo che cazzo era? Stracchino Ah stracchino Cazzo Che era lo stracchino del nonno danni? Eh no Certosa Certosa Questo è questo E' quello E' quello Sono buoni insieme E' quello Ora Un pochettino più difficile questo Credo Oddio che puzza Ah non so No puzza No no puzza puzza Magna No 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 Magna Che schifo No è qualcosa di buono Oddio che schifo No puzza troppo Non pu- Eh perché c'è sta Mi scuglio di roba È normale che puzza troppo Magna un po' No Mangia Pialo Oddio Ma che è? Allora marmellata da bicocche? No Marmellata è qualcosa? Sì Ma che è un choco crave? Sì Ma che è schifo? Era choco crave Che stanno qui È marmellata delle cose Te lo dico io Aspetta De visciole No Vabbè Marmellata d'arance D'arance E un goccetto di cacao di riso Latte di cacao di riso Quello proprio no Quello proprio Il penultimo Odora Oddio si sente già la smella A vera bocca Questa è Aspetta Questa è marmellata da bicocche A vera bocca Mai no Ah marmellata da bicocche Che cazzo No Questa è poi una merendina No Questa è la torta quella lì di carote Bravo E marmellate qualcosa Agrodolce Agrodolce Ma pare marmellate Marmellate Ma ti senta usso l'ascelle D'altro gusto Ma che è? Agrodolce e tortina di carote Che è finita Perché me la so finita io Cosa è un pezzettino con lui Come la so io Schifo Ah se volete vedere Me la dà un po' d'acqua Agrodolce è questo qua Mi dai un po' d'acqua Mi dai l'acqua Guarda fidati Non ti serve Non ti serve Perché adesso devo bere? No Ah ok Vai Basta non mi fa bere cose strane No tranquillo Non mi fa mangiare cose strane Non ti faccio mangiare nulla Che cosa fai? Vai Chiudi i blocchi Ma quando tu la... Oh Gio Fermo no no Che cazzo mi dai l'aglio? No no Questa è guarda Che cazzo è sul culo No 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 Fa cularti Brucia Oh brucia Dammi l'acqua Dammi l'acqua Ma che cazzo fai il wasabi? Cos'è sceco Vabbè era Spezzava Capito Tutto dolce E' piccato Ci sta Sta buono Però tu puoi mangiare Non vale Il wasabi però l'ho indovinato Ma comunque è buono Se fosse che picca Porca troia Diciamo che il wasabi era un tocco di cazzo Se solo se lo fosse mangiato E' scappato E' che l'ho indovinato subito Infatti ci devo mettere qualcosa Qualcana che è retrobusto Tipo qualche odore Vabbè Ragazzuoli Spieghiamo che vi sia piaciuta questa sfida Questa volta ha indovinato lui La prossima volta sariamo a 3.000 3.000 mi piace Indovinerò io Il wasabi non ci sarà Vi raccomando E Non lo so No non me lo mangio Vabbè E dai gran a nas è tutto E niente Facciamo la pagina fake Comunque in descrizione Instagram Tutto quanto Se parlavo in due Se capisce il cazzo Se capisce Se capisce Dai E E E E E E